Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parleremo di Ignas Semmelweis, il medico deriso perché voleva far lavare le mani ai suoi colleghi. La tematica è tanto attuale perché proprio durante il 2020 abbiamo scoperto tutti quanto sia importante avere le mani disinfettate e quanto questo tipo di accortezze siano in grado di limitare la circolazione di virus e batteri. Ma non sempre porta bene arrivare a importanti scoperti che possono salvare migliaia di vite umane. C'è sempre qualcuno che per svariati motivi prova a distruggere professionalmente e anche umanamente chi compie studi che possano in qualche modo mettere in discussione l'ordine costituito. Questo è quel che successe a Ignas Semmelweis, un medico che morì in manicomio dopo aver fatto una rivoluzionaria scoperta, non digerita ma osteggiata dagli accademici del tempo, l'importanza di disinfettare le mani prima di procedere a una visita medica perché lavarle con l'acqua e sapone non era sufficiente. Oggi appare come una cosa scontata ma non lo era per niente fino quasi alla fine dell'Ottocento quando gli studi di Pasteur dimostrarono la fondamentale importanza dell'antisepsi. È il 1846 quando, medico chirurgo e ostetrico giovanissimo, Semmelweis inizia a lavorare come assistente del primario alla clinica ostetrica del più moderno nosocomio europeo dell'epoca, l'ospedale generale di Vienna. Il dirigente, dottor Johann Klein, è fissato con le autopsie. Ogni assistente deve eseguirne intorno alle 15 o 16 al giorno prima di andare in corsia a visitare le partorienti e le puerpere. La mortalità delle neomamme si innalza spaventosamente rispetto a quella accettabile, sempre per l'epoca, 1% raggiunto dal suo predecessore. Va diversamente nella seconda divisione della clinica fondata dallo stesso Klein, ma destinata alla formazione delle ostetriche, una specializzazione riservata solo alle donne che ovviamente non effettuano autopsie. E va diversamente anche tra le donne che partoriscono a casa. Allora perché così tante morti, un numero 10 volte maggiore rispetto ad altre realtà, tra le partorienti ricoverate nella prestigiosa clinica universitaria viennese dove i neolaureati fanno a gara per formarsi? In realtà accade lo stesso anche in altre cliniche universitarie europee e statunitensi, dove la febbre puerperale arriva a uccidere il 15-20% delle donne ricoverate. Semmelweis è ossessionato da questa patologia che la scienza ufficiale giustifica con svariate cause, come la putrefazione dell'utero a causa del ristagno di liquidi, la compressione dell'intestino e il conseguente imputridimento delle feci, gas benefici che, respiriate dalle donne, provocano la putrefazione dei flussi uterini. Il giovane medico formula varie ipotesi, che oggi possono sembrare anche fantasiose, ma che danno il metro di quanto la scienza dell'epoca brancolasse nel buio su certi argomenti. Semmelweis ipotizza che la pessima qualità dell'aria, dovuta alla rivoluzione industriale, potesse essere una causa, ma i dati raccolti non portano a una conferma convincente. Anzi, il medico prende allora in considerazione l'idea che possa trattarsi di una malattia dovuta alla suggestione. Le pazienti si fanno spaventare dalla campanella suonata dal prete che passa a dare l'estrema unzione. Anche eliminando l'inquietante suono non ci sono miglioramenti. E poi c'è sempre quell'interrogativo. Perché le partorienti ricoverate nella clinica delle ostetriche muoiono in misura a così tanto o minore? Posto che i protocolli di intervento sono gli stessi e che le cause esterne sono ormai da escludere, l'unico fattore discriminante è la presenza degli specializzanti in ostetricia. Loro sono i futuri luminari, quelli che faranno partorire le donne di classe agiata, ma nel frattempo fanno pratica nella clinica universitaria che accoglie principalmente donne di bassa estrazione sociale che decidono di partorire lì perché hanno la possibilità di lasciare il neonato all'annesso orfanotrofio. Poi l'illuminazione. La lampadina si accende per Semmelweis a seguito di un evento luttuoso. Muore Jakob Kolechka, un amico oltre che un collega, che se ne va in pochi giorni dopo aver contratto una malattia che presenta gli stessi sintomi e gli stessi effetti della febbre puerperale. Dalla cartella clinica di Kolechka, il medico scopre che il collega, qualche giorno prima, aveva effettuato un'autopsia durante la quale si era ferito con un bisturi. Ecco il collegamento. La patologia è dovuta a particelle cadaveriche che inducono la sepsi. Semmelweis intuisce allora che la febbre puerperale si diffonde nel reparto di ostetricia perché gli specializzanti passano direttamente dalla sala delle autopsie alle corsie dove visitano le partorienti dopo un frettoloso lavaggio alle mani. L'ipotesi è inaccettabile per i maroni della medicina ma facilmente dimostrabile. Semmelweis obbliga tutto il personale, dottori compresi, a disinfettare le mani con una soluzione peraltro molto economica, il cloruro di calce, oltre a ordinare il cambio delle lenzuola per ogni partoriente. È il maggio del 1847 e l'adozione di quelle semplici misure di disinfezione abbassa la mortalità nel giro di poco all'incirca all'1%. Sarebbe lecito immaginare che quel risultato, al quale per decenni avevano tentato di arrivare i luminari universitari, venga colto con entusiasmo. Tutto il contrario. Semmelweis viene deriso e osteggiato. D'altronde è come accettare che la malattia possa essere diffusa dagli stessi medici fino ad essere licenziato dall'ospedale viennese. Il dottor Klein non sopporta quel giovane medico che sostiene le sue teorie con forza, rivolgendosi a uso duro al suo superiore e si permette di dare disposizione come la disinfezione delle mani senza chiedere il suo permesso. Oltretutto il focoso giovanotto è ungherese e proprio in quegli anni l'Ungheria aspira a liberarsi dal gioco austriaco. La conclusione è una sola. Semmelweis è un sovversivo. Ma non è solo Klein a prendersela con Semmelweis. A parte qualche caso isolato, la maggior parte degli accademici rifiuta la sua teoria. Il medico torna in Ungheria e nell'ospedale San Rocco di Pest applica i suoi metodi con il risultato di ridurre significativamente la mortalità tra le puerpere. Solo nel 1861 si decide a pubblicare i risultati delle sue ricerche. Eziologia, concetto e profilassi della febbre puerperale. Ancora una volta gli esponenti della comunità medica lo tacciano di cialtroneria nonostante gli evidenti risultati. Alla fine praticamente senza lavoro e in povertà Semmelweis viene internato in manicomio per una forma di psicosi indotta forse dalle persecuzioni subite a livello professionale o forse da una malattia contratta durante il suo lavoro, la neurosifilide. Comunque sia, muore di setticemia dopo un intervento chirurgico solo e dimenticato da tutti. Dopo gli studi di Louis Pasteur e Josef Lister, che confermeranno quello che Semmelweis aveva intuito senza la possibilità di dimostrarlo, la figura del medico chiamato il Salvatore delle Madri viene rivalutata e nel 2013 l'UNESCO ha inserito alcuni suoi scritti nel registro della memoria del mondo. La storia di Semmelweis, nonostante la tardiva ammenda, lascia l'amaro in bocca. L'ottusa conservazione del proprio potere produce innumerevoli vittime e non solo in campo medico.